La primavera è già arrivata e lo sbocciare della bella stagione porterà con sé il problema dello sfalcio del verde pubblico. L'amministrazione comunale sandonatese però non ha intenzione di farsi cogliere in preparata ed ha già elaborato un programma di intervento consultabile sul sito web del Comune. È difficile riuscire ad essere contemporaneamente presenti in tutta la città visto che i 130 ettari di verde pubblico che abbiamo richiedono un impegno. Quindi è stata data una priorità di intervento per lo sfalcio secondo un programma che abbiamo pubblicato sul sito del Comune per cui ogni residente potrà vedere la situazione relativa alla propria via. La priorità viene data ai parchi delle scuole a partire dalle scuole d'infanzia fino alle elementari e le medie per poi proseguire con i parchi pubblici soprattutto quelli frequentati da bambini, gli incroci stradali, i cigli delle strade e poi tutte le altre porzioni. Fino a che non si inserisce un regime di rotazione sappiamo che i primi due mesi saranno difficoltosi proprio perché il personale non può essere contemporaneamente presente in tutti i punti della città. In più anche quest'anno riprodurremo il tema della convenzione con privati che si faranno cura, quindi anche sgravando le casse del Comune, di prendersi in carico delle parti di verde dove non c'è un'alta frequentazione e quindi anche in questo caso potremmo produrre un risparmio per le tasche pubbliche. La gestione dei tagli del verde pubblico per il Comune ha un costo storico di circa 70.000 euro a taglio che nel momento in cui ne vengono realizzati 7 nel corso della stagione primaverile e estiva comportano una spesa di circa 500.000 euro. Dall'inizio dell'anno scorso abbiamo cominciato a internalizzare parte del servizio facendo un investimento in attrezzature utilizzando personale proprio e questo assieme all'altra misura di cui parlavo e cioè la possibilità di concedere a privati di sfalciare normalmente per uso poi zootecnico una parte del verde produrrà un risparmio notevole per le casse del Comune. Chiaramente queste devono avere alcune caratteristiche e quindi non essere di frequentazione normale da parte dei cittadini perché lo sfalcio ad uso zootecnico comporta che l'erba debba crescere di più rispetto a quella normalmente tagliata. Quindi anziché avere uno sfalcio mensile in quel caso sarà bimestrale. Oltre alle aree individuate l'anno scorso anche quest'anno procederemo all'invio di nuove aree e poi renderemo nota la situazione alle associazioni di categoria agricole o direttamente ai privati.